Che cos'è e come si fa la Quaresima di San Michele? Lo vedremo nel video di oggi. Buongiorno, mi chiamo Samuele Maniscalco, benvenuti nel canale, gli angeli sono con noi. In questi giorni, e più precisamente il 15 di agosto, è iniziata la Quaresima di San Michele, un periodo che va dalla festa dell'assunzione della Beata Vergine Maria al 29 settembre, festa dell'Arcangelo. Sono 40 giorni, escluse le domeniche, durante i quali si fa penitenza e si recitano alcune preghiere in onore di San Michele, attraverso il quale possiamo chiedere una grazia specifica e ottenere che lui, l'Arcangelo, agisca con più intensità nelle nostre vite, nelle nostre famiglie e nella lotta spirituale contro il demonio. Che è poi la missione specifica di questo canale, conoscere e amare sempre di più i Santi Angeli, affinché agiscano con maggior costanza nella nostra vita, allontanando da noi l'azione malvagia del demonio. Per questo motivo do il benvenuto ai nuovi iscritti e ringrazio, a vario titolo, quanti da tempo sostengono questo canale. Chi con la preghiera, chi condividendo i video, chi mettendo un mi piace, chi commentando, chi donando direttamente qui sul canale attraverso i supergrazie e chi facendo parte del gruppo Apostoli dei Santi Angeli, il cui beneficio principale è la celebrazione di diverse sante messe all'anno secondo l'intenzione lasciata al momento dell'iscrizione, oltre a ricevere a casa del materiale religioso e avere la possibilità, nel corso dell'anno, di registrare le proprie intenzioni di preghiera perché siano portate nei principali santuari dedicati a San Michele come abbiamo fatto lo scorso luglio. Per sapere di cosa si tratta vi metto il link di riferimento in descrizione. Ma, dicevo, la Quaresima di San Michele è una devozione molto speciale, molto intensa, di cui a breve dirò anche come metterla in pratica. Prima però dobbiamo rispondere a una domanda, posto che alcuni possono non conoscere questa devozione e avere dei dubbi a riguardo. E la domanda è, qual è l'origine di questa Pia pratica? Sappiamo che, per prepararsi alla festa di San Michele, San Francesco d'Assisi osservava, a partire dalla festa dell'Assunzione, una sua speciale e personale quaresima. E fu proprio durante uno di questi ritiri, in onore del Santo Arcangelo, che ricevette le stimmate sul Monte della Verna, nel 1224. Il Santo aveva, infatti, un grande amore per gli spiriti angelici. Il suo primo biografo, fra Tommaso d'Acelano, così ne parla. Dice, venerava amorosamente gli angeli e diceva che essi devono essere venerati dovunque come compagni e non meno invocati come custodi. Insegnava a non doversi offendere il loro sguardo e non osare davanti ad essi fare ciò che non si farebbe davanti agli uomini. Anche la predilezione che San Francesco aveva per la porziuncola, Santa Maria degli Angeli, è motivata dal biografo in quanto luogo favorito da grazie più abbondanti e da frequenti visite di spiriti angelici. E, della speciale devozione per San Michele, così scrive fra Tommaso d'Acelano. Dice, ripeteva spesso che si deve onorare in modo più solenne il beato Michele perché ha il compito di presentare le anime a Dio. E diceva, ciascuno a onore di così glorioso principe dovrebbe offrire a Dio un omaggio di lode o qualche altro dono particolare. Ora, in mezzo agli angeli, dice San Tommaso d'Aquino, i più vicini a Dio sono contemporaneamente sia di una dignità altissima sia di una scienza eminentissima. Se così è, si domanda Don Marcello Stanzione, qual è la gloria di San Michele? Quali sono le sue grandezze? Lui che vive, secondo la bella espressione dello pseudo Dionigi, nel vestibolo stesso di Dio. Giobbe, parlando del suo terribile avversario, Satana, dice, non vi è spada né lancia né corazza che possa resistere davanti a lui, non vi è potenza che sia paragonabile alla sua. Ora, è questa potenza che Michele ha vinto, è questo terribile avversario che un solo sguardo ha messo in fuga. Davanti a San Michele Satana fugge sempre, San Michele resta il suo eterno vincitore. Per capire però l'entità dell'avversario che dovette vittoriosamente affrontare, leggiamo come il profeta dell'Antico Testamento, Ezechiele, descrive Lucifero. Ed anche se il capitolo in questione parla del principe di Tiro, diversi padri della Chiesa affermano che quello che gli sta scritto si applica interamente al demonio. Scrive dunque il profeta Ezechiele, tu eri sigillo di perfezione, pieno di sapienza, al colmo dello splendore, eri nelle delizie del paradiso di Dio, ogni sorta di pietre preziose ingemmava la veste che ti copriva. L'oro fu apprestato in servizio della tua bellezza e la filigrana era preparata per il giorno in cui saresti stato creato. Fine citazione. Tale era la bellezza, tale era la gloria di Lucifero al tempo del suo splendore. Bellezza e gloria che adesso sono a giusto diritto di San Michele. Ma come funziona la Quaresima di San Michele? Come ho detto, si tratta di una pratica che si svolge durante tutti i 40 giorni che intercorrono tra il 15 agosto e il 29 settembre, ad eccezione delle domeniche, durante i quali si recitano delle preghiere specifiche e si sceglie una particolare penitenza da praticare. Quali sono le preghiere? Accendiamo innanzitutto una candela davanti a un'immagine o una statua di San Michele Arcangelo. Poi ci facciamo il segno della croce, recitiamo a seguire la preghiera composta da Papa Leone XIII, quindi le litanie di San Michele Arcangelo che possono essere recitate o cantate. Subito dopo un Padre Nostro in onore di San Michele, uno di San Gabriele e uno in onore di San Raffaele, quindi un'altra preghiera a San Michele, dopodiché l'atto di consacrazione all'Arcangelo e le formule di chiusura. Infine la preghiera Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angi. In descrizione vi lascio scritte tutte queste preghiere così da poterle copiare e recitare in tutta tranquillità. Si tratta quindi di una pratica molto semplice e importante. Alcune raccomandazioni. Fate attenzione a non scegliere una penitenza così grande da diventare quasi impossibile da fare durante 40 giorni. Una penitenza media o piccola da praticare con costanza è meglio di una penitenza molto grande che poi difficilmente riusciremmo a portare avanti. Ecco quindi una breve spiegazione di ciò che è la Quaresima di San Michele e di come metterla in pratica. Prima di salutarvi vi ricordo che potete lasciare le vostre intenzioni di messa cliccando sul primo link che trovate in descrizione. Da parte mia, come sempre, chiedo e prometto preghiere. Noi ci vediamo martedì. Che Dio vi benedica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.